Giulio Rapetti, in arte mogol, celebre parogliere silvarolo d'adozione, ha preso parte all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università d'Annunzio Chieti-Pescara. Mogol ha ricevuto il riconoscimento dell'Ordine della Minerva, un po' abruzzese, come detto, visto che le sue estati da bambino le trascorreva Silvi, di cui è il cittadino orario, che ha ispirato la celeberrima canzone del sole portata al successo da Lucio Battisti. Ma Mogol è intervenuto da presidente Siae anche sulla tragedia della discoteca di Corinaldo, dove sono morti cinque ragazzi e una mamma a 39enne, che accompagnava sua figlia, nella calca creata probabilmente da uno spray al peperoncino. Bisogna agire preventivamente e repressivamente, perché ho spiegato che la prevenzione deve intanto visitare tutti i luoghi, le discoteche e dichiarare quelli che possono agire e quelli che devono subire delle modifiche. Secondo, i biglietti che si devono dare devono essere proporzionati al numero delle persone che ci stanno comodamente. Terzo, una persona che usa un'arma, perché è un'arma, quella è un'arma, è come una bomba a mano, deve esserci una pena certa già stabilita con un minimo di pena di almeno tre anni, almeno tre anni, perché bisogna, perché questo potrebbe succedere e bisogna scoraggiare subito chi la fa. E poi, per non ultimo, che i cantanti, non possono arrivare i cantanti, soprattutto quelli che si dedicano ai giovani alla una di notte, perché alla una deve essere già a letto i bambini, i ragazzi, perché così se aspettano un cantante per tre ore in piedi e cominciano a bere, a fumare, per cui poi può succedere qualche cosa di simile a quello che è già successo. Insomma, la musica deve essere per tutti e soprattutto non deve essere un business? Un divertimento certo, no, che sia anche un business, no, perché non è giusto non pensare che chi apre una discoteca non lo faccia anche per denaro, ma deve essere prima la sicurezza e poi il business.